Sono innamorato del giornalismo, della comunicazione e della verità. È un amore che mi ha travolto sin da giovanissimo, quando ho scoperto il potere delle parole, di provare a fare la differenza e di poter cambiare il mondo, dando voce a chi non ha voce, sempre, comunque e a qualunque costo. Io vivo così il mio lavoro, come una missione, come una passione che mi travolge. Spesso mi chiedono, ma com'è il tuo lavoro? Com'è il lavoro del giornalista investigativo? Per raccontarvelo partirò dalla mia famiglia. Sono figlio di due genitori che sono riusciti a trasformare una passione in lavoro. L'han fatto grazie alla fortuna, ma tanta determinazione. Mia mamma professoressa, innamorata profondamente della scuola e dei suoi studenti. E mio padre, un giornalista siciliano, esperto di conaca nera e di mafia. Perché specifico siciliano? Perché è lì che sono iniziate le minacce, le intimidazioni, le violenze, le aggressioni. A 22 anni gli hanno sparato. Le minacce sono continuate anche in Lombardia, dove si è occupato di mafia ancora. E anche lì una redazione data alle fiamme, un fucile puntato in faccia. Ricordo ancora, avevo 8-9 anni. Io ero e sono molto legato a mio padre, era il mio eroe. E lo aspettavo sempre dopo cena, faceva sempre tardi. Mi ricordo che ero in punta di piedi, affacciato sulla finestra di casa che dava sul parcheggio, aspettando di vedere la sua auto arrivare. E quasi sempre c'era quest'auto dietro di lui, che quasi lo tamponava. Gli urlava qualcosa, sgommando via. Io non capivo, pensavo fosse semplicemente qualcuno non in grado di guidare, una casualità. Lui entrava, come niente fosse, rideva. In realtà, solamente più avanti ho capito che quello era un modo di intimidirlo, di spaventarlo, di mettergli paura. Ma lui, come niente fosse, ogni giorno si alzava, andava in redazione e, come è giusto, scriveva di quella feccia. Il giornalista deve, deve assolutamente non avere condizionamenti, né politici, né narcisistici, né economici, anche se purtroppo questo è sempre più raro. L'unica bussola che guida il giornalista dovrebbe basarsi sull'onestà intellettuale, su questa onestà intellettuale fondamentale. La deontologia e la ricerca e l'esigenza di verità. Quella stessa esigenza di verità che mi ha spinto, per le Iene, a vivere per tre mesi durante il Covid-19, tra ottobre 2020 e dicembre 2020, per tre mesi nelle aree Covid dell'ospedale di Padova, documentando la pandemia, documentando l'istancabile lavoro di medici, os e infermieri, la paura, il terrore e la speranza di familiari e di pazienti. Così come documentare anche l'efficacia del plasma iperimmune. Ho fatto anche tanto lavoro sotto copertura, perché a volte per la verità bisogna rischiare. Prima in Turchia, dove fingendomi un trafficante italiano mi sono infiltrato nelle fabbriche della Camorra e di molti criminali che cercano e costantemente distruggono il Made in Italy. L'ho fatto in Egitto, dove documentavo il traffico di steroidi anabolizzanti, questi farmaci ad uso animale che distruggono la vita di molti giovani. Non posso non menzionare la nostra inchiesta delle Iene su Falcone e Borsellino, i nostri grandi magistrati, e sul Bomb Jammer, un dispositivo antibomba mai voluto installare sulle auto di questi magistrati, che forse oggi sarebbero ancora vivi. Parlarne mette sempre i brividi e mi emoziona. Spaventa anche perché ci si chiede ma com'è possibile che poi non se ne parli? Perché non se ne parla? Spesso mi si chiede ma non hai paura? E io dico certo, sono stupido, sarei stupido non avere paura. Ma come dice Mandela, il coraggio è la forza di superare quella paura e capire che fare quello o quell'altro è più importante. Tu sei meno importante di quello che stai facendo, perché lo fai per tutti, lo fai per gli altri, lo fai per la verità. La verità. Ora vi racconterò una storia, una storia che ha cambiato per sempre la mia vita. Ancora oggi, e so che mentre la racconterò, mi sembrerà incredibile, inimmaginabile, impossibile, eppure vi garantisco che è vero. È una storia di andrangheta, un omicidio irrisolto, forse volutamente irrisolto. Siamo a Paola, è il 1982, comune in provincia di Cosenza, Calabria. Un imprenditore locale e consigliere comunale della DC, un partito potentissimo in quell'epoca, con un discorso molto potente in consiglio comunale, accusa il partito di essere corrotto. Ne prende le distanze. Lui è Pompeo Panaro. Dopo poche settimane, quell'uomo scompare nel nulla. Lascia due figli piccoli e una moglie, che per 30 anni non sanno niente di lui. Sanno solamente quello che leggono sui giornali. È l'upara bianca. Cos'è l'upara bianca? L'upara bianca è un gergo giornalistico per intendere quando, dopo un omicidio, le cosche, i clan, fanno sparire quel corpo per sempre. Perché vogliono distruggerne la memoria, in eterno. E quasi ci riuscivano. Ma il figlio, Paolo Panaro, un uomo unico, eccezionale, dal coraggio inimmaginabile, non si è mai arreso, nonostante le tante porte chiuse in faccia. Casualmente un giorno, apre un giornale locale, quell'articolo parla di Andrangheta. Parla anche di suo padre. E legge, come indicato, negli atti giudiziari. E lui dice, ma quali atti giudiziari? Di mio padre non sappiamo niente. È scomparso nel nulla. Pensa ad un errore. Paolo però vuole saperne di più. Chiede ad un avvocato di fare accesso agli atti, per avere questi presunti documenti. E come niente fosse, da niente, quasi mille pagine di un fascicolo di indagine per omicidio. Da niente, per trent'anni, a mille pagine. Paolo non ci può credere. Inizia a studiare. E scopre di tutto. Errori madornali, indagini fatte in modo, come possiamo dire, superficiale. Ma sono due gli elementi che lo lasciano basito, arrabbiato, scioccato. Il primo. I resti del padre erano stati ritrovati pochi mesi dopo la scomparsa. Perché alla famiglia non è mai stato detto? E il secondo elemento, ancora più incredibile. Già nel 90, due pentiti appartenenti a un clan potentissimo locale di Andrangheta, presunti responsabili di questo assassino, avevano già parlato, già testimoniato, dicendo sostanzialmente le stesse cose, indicando lo stesso esecutore materiale, indicando la stessa arma utilizzata, le stesse modalità omicidiarie, lo stesso luogo di seppellimento e per giunta lo stesso movente. Ma incredibilmente tutti i magistrati che hanno avuto in mano quelle carte hanno sempre archiviato. Per Paolo è abbastanza. Dice no, non è possibile. Sono troppe anomalie. Presenta un esposto alla DDA, la Direzione Struttuale Antimafia di Catanzaro, competente sul caso. La DDA apre le indagini e le chiude in un batter d'occhio, arrivando a tre conclusioni. La prima. I resti di Pompeo Panaro sono di Pompeo Panaro, quindi alla famiglia, spetta un esercimento economico in quanto vittime di mafia, come capita spesso. Il pentito, uno dei due, rinviato in assise. L'altro, ormai libero dal carcere, non vuole più saperne. E infine, la cosa più eclatante, i presunti esecutori materiali, sono sei, tutti deceduti. Quindi voi penserete, tutto finito, tutto risolto. Giustizia, tra virgolette, è fatta. E se vi dicessi che dopo mesi e mesi di ricerche, assieme ad una mia collega, siamo riusciti a trovare vivi, vivi e vegeti quei presunti esecutori materiali morti per la magistratura. Voi ci credereste? Io no. Eppure è la verità. Uno sul muletto, che lavorava, un altro a fare la spesa, un altro a sbigare delle commissioni. E indovinate un po', quasi tutti vivono e lavorano nello stesso comune dove vive Paolo Panaro. Per la magistratura sono morti, ma sono lì a due passi da quest'uomo, minacciato, intimidito per anni e trattato come un matto. Ora, questo è il giornalismo investigativo. Il tentativo di portare luce dove altri vogliono mantenere il buio. Un buio che può fare davvero paura e può fare male a tutti quanti. Perché racconto a voi questo? Voi non fate il mio mestiere. Ma penso profondamente che, a prescindere dall'età, vedo molti giovani, o dalla propria professione, tutti possano ricercare la verità. Debbano ricercare la verità. Non accontentarsi di verità preconfezionate, superficiali, di parte, politicizzate. Ma andare oltre. Chiedere di più, pretendere di più. Pretendere quella vera verità che spesso ci viene negata. E con questo vi lascio con un augurio. Siate coraggiosi, sempre. Provate a fare la differenza ogni singolo giorno. Ma soprattutto ricercate la verità per voi e per tutti. Grazie. 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 Grazie.